Ragazzi, sono ufficialmente approdato a Kyoto. Questo è l'hotel di Kyoto. Ve lo mostro in piccola parte. A differenza dell'hotel di Tokyo, la stanza è più piccola, ma il letto è enorme. È molto, molto comodo. Se venite a Kyoto, vi consiglio questo hotel principalmente per il letto, perché è veramente molto comodo. Come potete vedere, qui abbiamo una scrivania con una TV, una sedia, uno specchio e una bajure. Lì in fondo, non so cos'è, le tende, che a differenza di Tokyo, vi sono queste tende volumiose per coprire le proprie vergogne. Di qui abbiamo un'altra bajure, o una telecamera segreta, non si sa. Una presa di corrente, per fortuna vicino al letto è ovviamente in giapponese. E questo fantastico computerino di bordo in giapponese per attivare l'aria condizionata, che per fortuna è presente anche qui. In fondo abbiamo la porta, come potete vedere tramite i messaggi in inglese, basta chiuderla per chiuderla. Qui invece non abbiamo uno specchio o un armadio finto, ma voilà, l'armadio è vero e possiamo custodire al suo interno i nostri vestiti. Quindi, come ciliegina sulla torta, abbiamo il cesso, il bagno. Accendiamo la luce da qui, apriamo la porta e lascio giudicare a voi ragazzi. Qui abbiamo praticamente la tazza super accessoriata, il lavandino con lo specchio. Qui invece abbiamo la doccia, che non si vede tanto bene, ma c'è. Chiudiamo il cesso, spegniamo la luce e proseguiamo. Un'altra differenza rispetto all'hotel a Tokyo risiede nel lavaggio dei vestiti. In altre parole, qui non hanno una lavanderia autonoma, dovete pagare per poter lavare i vostri vestiti. Io vi consiglio di lavarli in camera e se è possibile asciugarli manualmente, col fono magari, o trovare un'apposita lavanderia. Questa è la stanza, ve la rimostro. Abbiamo un letto enorme, ma in sostanza la stanza è molto piccola. Vicino al letto è presente questo computerino di bordo, come vi ho detto, per poter regolare l'aria condizionata. Quindi avete tutte le vostre comodità. Magari portatevi da casa una console o un qualsiasi altro dispositivo da collegare al televisore, al monitor. Così passate il tempo quando vi trovate in camera. Ultima cosa, un frigorifero dove al suo interno c'è il nulla, ovviamente. A differenza dell'hotel a Tokyo dove mettevano delle bevande fresche. Ci auguriamo che sia solo il primo giorno, altrimenti siamo, o meglio sono costretto a riempirlo di bevande di distributori. Qui abbiamo un graziosissimo servizio da te, con bollitore incluso. Il telefono, nel caso vogliamo chiamare il telefono azzurro per lamentarci del servizio. Una torcia, credo che sia, non lo so, e un cestino dell'immondizia. Credo di avervi mostrato tutto, di avervi detto tutto. Lì abbiamo il nostro armadio magico alla Doraemon, dove collocare ogni cosa. Su abbiamo dei rilevatori di fumo, se fumiamo con i turchi in camera, le luci. Niente, questo è l'hotel che dista qualche giorno di cammino dal centro. Ma, come potete vedere, i comfort ci sono, quindi ne vale la pena.